Incontro con la stampa ieri del sindaco di Sala Consina Francesco Cavallone dell'amministrazione comunale per fare chiarezza sulle vicende legate a paventati ridimensionamenti per l'Agenzia delle Entrate e per la Tenenza della Guardia di Finanza e per commentare la sentenza del TAR che ha rigettato il ricorso di Comune e Ordine degli Avvocati sulla chiusura del carcere di Sala Consilina. Per ciò che riguarda l'Agenzia delle Entrate e la Tenenza della Guardia di Finanza, il sindaco Cavallone ha smentito ipotesi di ridimensionamento o chiusura, sottolineando che tutto resterà invariato almeno per il momento. Per ciò che riguarda l'Agenzia delle Entrate, dagli uffici regionali viene assicurato che al momento non dovrebbe subire variazioni né di ridimensionamento e purtroppo neanche di potenziamento. In merito invece alla Tenenza della Guardia di Finanza non ci sarà alcun tipo di cambiamento nella struttura, tenenza è e tenenza resta, ha assicurato il sindaco Cavallone, sottolineando come a Vallo della Lucania è stato possibile assegnare il comando per la presenza del Tribunale e pertanto l'unica variazione che dovrebbe sopravvenire nei prossimi mesi è la competenza che da Eboli dovrebbe passare a Vallo della Lucania. Toni ben più accesi sono stati riservati dal sindaco al tema del carcere con dure critiche alle motivazioni della sentenza del Tar che ha rigettato il ricorso presentato da Comune e Avvocati. Francesco Cavallone ha analizzato diversi passi della sentenza evidenziando dei controsensi, come nel caso del criterio di territorialità. In un passaggio della sentenza gli stessi giudici del Tar chiariscono il significato di principio di territorialità e sottolineano che fa riferimento all'ambito regionale. Poche righe dopo i giudici spiegano che il penitenziario di Sala Consilina non è l'unico penitenziario limitrofo al Tribunale di Lago Negro in Basilicata, competente sul Vallo di Diano in Campania, che è servito, si legge nella sentenza, dalla casa circondariale di Castrovillari in Calabria che dista 75 km dal Lago Negro rispetto al carcere di Sala Consilina che dista 40 km. Quindi non pare al collegio, si legge sulla sentenza, si possa ravvisare un vulnus del principio di territorialità. Il Tar ha inoltre accolto le motivazioni del Ministero sul punto legato alla disparità di trattamento tra il carcere di Sala Consilina ed altre strutture penitenziarie come quelle di Grossieto, Eboli, Pordenone e Lanusei, che nonostante con numeri al di sotto di 100 posti restano ancora aperte. La risposta del Ministero accolta dai giudici del Tar è che al momento, a distanza di diversi anni dalla chiusura del carcere di Sala, per le suddette strutture è in corso una valutazione sull'opportunità di chiusura. Cavallone su questo punto si è chiesto quindi come mai per Sala Consilina non si è ritenuta necessaria alcuna valutazione, procedendo subito a disporre la chiusura e il trasferimento dei detenuti, pur di fronte al sovraffollamento delle carceri. Una serie di incongruenze a cui l'amministrazione comunale salese si opporrà in Consiglio di Stato, mentre il Sindaco ha annunciato di voler chiedere un confronto con il Ministro Cartabia. Cartabia